c'è una ragazza che va dal padre e mi sono innamorata questa volta è un ragazzo australiano come australiano? quando ce l'è andata mai in Australia? l'ho conosciuto in un sito di incontri poi abbiamo cominciato a chattare mi ha chiesto l'amicizia su facebook e poi dopo abbiamo cominciato a fare le storie su instagram però io il padre la guardava dice ma come se fosse un extraterrestre io però ho bisogno della tua approvazione per il tuo consenso perché io lo amo ma devo avere anche l'approvazione di mio padre della mia famiglia ma che problema c'è scusate vi sposate in diretta su skype ordinate quello che vi serve pagate con paypal e poi ordinate qualche ragazzino su amazon se non ti trovi bene te lo rivendi su ebay